Benzina troppo cara anche oltre i confini e i costi schizzati alle stelle anche in Svizzera hanno portato il consigliere nazionale dell'Udc Unione Democratica di Centro, Piero Marchesi, a presentare una mozione a Berna per chiedere di fermare gli aumenti. La proposta del consigliere è di introdurre una soglia massima di prezzo, oltre alla quale le tasse e l'IVA prelevate vengono limitate. Insomma, gli aumenti pesano e non solo in Italia soffre il Ticino, ma soffre anche tutta la Confederazione. Si chiede dunque un intervento a livello centrale. Il Consiglio federale, si legge, è incaricato di elaborare un progetto di modifica delle leggi concernenti affinché, al superamento di una soglia di prezzo dei carburanti alla pompa di benzina, vengano attivate delle misure per attenuarne e compensarne la crescita. Il costo dei carburanti alla pompa di benzina negli ultimi mesi è tornato a salire in modo repentino. Il 30% in poche settimane spiega ancora il consigliere e le stazioni di servizio subiscono passivamente rialzi. Hanno pochi margini di manovra perché le cause sono da ricercare a livello internazionale. C'è tensione sul mercato dei carburanti e alcune raffinerie sono ferme per manutenzione. L'offerta di prodotto conclude e bassa a fronte di una domanda che invece è piuttosto alta. La mozione si chiude con la possibilità per il Consiglio federale di elaborare altre soluzioni per raggiungere l'obiettivo. E mentre la Svizzera prova a correre ai ripari, in Italia, dopo aver raggiunto la soglia dei 2 euro anche al self-service, le cifre sono tornate a scendere leggermente, pochi millesimi al litro in realtà. Intanto all'Assemblea nazionale della FAIBA, associazione di categoria dei benzinai, nel sessantesimo di fondazione, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che il governo considererà l'applicazione dell'accisa mobile per contrastare il rialzo dei prezzi della benzina. Per semplificare, con l'accisa mobile si intende un meccanismo che in modo automatico va ad abbassare le accise quando il prezzo della benzina supera una certa soglia.